Addobbati, mascherati, obbligati ad ore di addestramenti sono gli animali impiegati nei circhi e ancora oggi non esiste una legge per vietarne l'utilizzo. La LAV parla di traumi fisici e mentali sofferti dagli animali sfruttati negli spettacoli circensi. Vietarne l'utilizzo non si può, ma limitarlo sì. Va in questa direzione il nuovo regolamento del Comune di Piacenza, da poco licenziato dalla Giunta. Si tratta di un testo voluto dall'assessore Serena Groppelli che contiene prescrizioni rigide sull'ottenimento delle autorizzazioni sulla tutela e la custodia degli animali e sulla sicurezza. La proposta di delibera approderà mercoledì nelle commissioni 1 e 2 per poi passare al vaglio del Consiglio Comunale. È la prima volta che il Comune si dota di un disciplinare di questo tipo, un regolamento molto atteso soprattutto dalle associazioni animaliste. Anche il sindaco Katia Tarasconi si è sempre espressa contro l'utilizzo degli animali negli spettacoli viaggianti. L'oderno regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione di concessione delle aree pubbliche alle imprese del settore circo. Ad esempio dice che l'autorizzazione può essere rilasciata solo a carattere temporaneo per un periodo non superiore ai 20 giorni e che le aree destinate a ospitare attività di spettacolo viaggiante con animali possono essere utilizzate a tale scopo non più di una volta all'anno. Inoltre in caso di plurime domande per lo stesso periodo il Comune ha facoltà di scegliere una determinata attività e costituisce titolo preferenziale non utilizzare o esporre animali. A parità di requisiti dunque la preferenza è accordata ad attività che risultino utilizzare il minor numero di animali nel loro spettacolo.